Musica Burgone esce di strada nell'Anconetano e si schianta contro un albero. Muore un ragazzino di 16 anni ferito in conducente a Fano, scontro fra tre auto, 42enne soccorsa dall'eliambulanza. Don Paolo Gramolini è tornato alla casa del padre l'eseque mercoledì al Duomo di Fano. Una svolta storica per la sanità delle Marche col piano della regione, con nuovi ospedali e case di comunità, confermato a Fano l'hospice pediatrico. Il ministro Speranza conferma, si resta in zona arancione per due settimane. Per Acquaroli è una situazione paradossale, con il sistema a colori ideato in una fase di emergenza e che adesso è sproporzionato. Sgarbi a Pesaro lancia un nuovo partito insieme a Umberto Carriera in vista delle elezioni 2023. Sull'ordinanza di chiusura annullata dal tribunale ha detto che avevamo ragione, l'ordine era illegittimo, i sindaci vengano a scusarsi. La regione sostiene le imprese agricole con il PSR Marche, a bando 30 milioni di euro per rinnovare le strutture produttive. Tra poco, dopo il telegiornale, una nuova puntata di Primo Cittadino Ospite, il sindaco di Fano Massimo Seri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In apertura del nostro telegiornale due incidenti che si sono verificati oggi nelle Marche. Il primo, purtroppo mortale, è accaduto in via Fornace nel comune di Serra dei Conti, in provincia di Ancona. Perdere la vita è stato un ragazzino di 16 anni della provincia di Fermo che stava facendo uno stagio. Il minorenne si trovava a bordo di un furgone, al lato passeggero, per cause ancora in fase di accertamento. Il conducente, un uomo di 35 anni, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un albero nel campo adiacente alla carreggiata. A causa dell'impatto, il 35enne è stato sbalzato fuori dalla cabina, è in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita. Il sedicenne invece è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Arcevia in collaborazione con i sanitari del 118, ma il medico presente ne ha constatato il decesso. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale. Un altro incidente si è verificato alle 8.30 lungo la strada provinciale 45 che collega a Fenile a Santa Maria dell'Arzilla. Tre le auto rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto all'altezza della strada comunale Madonna degli Angeli. Una 42enne di origini straniere era a bordo di una Citroen C3 e si stava dirigendo verso Fano quando, di uscita dalla curva, ha perso il controllo dell'auto invadendo l'altra corsia. In quel momento stava sopraggiungendo una Kia Sportage condotta da una 29enne. La collisione è stata frontale-laterale. La Kia, a causa dell'impatto, è uscita di strada facendo una rotazione di 180 gradi per poi fermarsi nel fossato attiguo, mentre la Citroen ha terminato la sua corsa contro un pick-up guidato da un uomo proveniente dal senso di marcio opposto. La conducente della Citroen è stata trasportata dall'eliambulanza all'ospedale di Ancona, mentre gli altri due sono finiti a Santa Croce sul posto, oltre al 118. I vigili del fuoco, la polizia locale e una ditta specializzata per la pulizia della strada. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per permettere le operazioni di soccorso e rilievi di legge. E' tornato alla casa del padre Don Paolo Gramolini, 84 anni, ordinato sacerdote a Metauriglia di Fanno, il 23 giugno 1963. Don Paolo, si legge in una nota della residenza a Vescovile, presenta al Signore la sua vita sacerdotale, vissuta nella cura delle relazioni come servo buono e fedele, nelle varie mansioni che gli sono state affidate. Lascia ai confratelli presbiteri e a quanti lo hanno conosciuto l'esempio di una quotidianità umile e operosa. guidata dalla costante attenzione ai segni della volontà di Dio e ai bisogni delle persone. La Santa Messa con il rito dell'eseque sarà celebrata nella Chiesa Cattedrale di Fanno, mercoledì 16 febbraio, alle ore 10. La Giunta regionale delle Marche ha approvato e presentato il piano di attuazione del PNRR, l'aggiornamento del documento sull'edilizia ospedaliera. Una delibera definita storica in conferenza stampa, durante la quale sono stati elencati tutti gli interventi previsti per i prossimi anni per un importo di quasi un miliardo di euro. Confermati a Fanno, l'ospedale di comunità e l'ospice pediatrico. Alex Ospedaletto. Dopo 14 mesi siamo in grado di rispondere alla domanda che era stata rivolta al corpo elettorale, la sanità di prossimità. Così l'assessore regionale Filippo Saltamartini, che insieme ai colleghi di Giunta e al presidente Francesco Acquaroli, ha illustrato la destinazione delle risorse connesse al piano nazionale di ripresa e resilienza e l'aggiornamento del masterplan sull'edilizia sanitaria. Per quanto riguarda l'area Vassa 1, sono previste case di comunità a Monbaroccio, Mondolfo e Fossombrone, a Pesero l'ospedale di comunità, mentre a Caglia entrambi. Inoltre a Fanno, Pesero e Urbino verrà realizzato un COT, un centro operativo territoriale. Importanti investimenti sono previsti dal masterplan sull'edilizia ospedaliera, con atti di pianificazione a breve e medio termine. A disposizione 923 milioni per 50 interventi in esecuzione, in cantiero e in fase di progettazione. Tra questi, tre nuovi ospedali a Pesero, Macerate e San Benedetto del Tronto, sei nuove strutture per le emergenze a Fanno, Urbino, Senigallia, Fabriano, Civita Nova Marche e Ascoli Piceno, tre hospice a Cagli, Fanno e Tolentino, quattro ospedali in corso di esecuzione, Salesi, Irca, Fermo e Amandola, nonché la ristrutturazione del nosocomio di Pergola. A questi si manano ad aggiungere ben 33 riqualificazioni di strutture sanitarie e ospedaliere esistenti. Parliamo di risorse ingenti, ha sottolineato il governatore, e sono tanti gli interventi previsti. Quelli rimasti esclusi verranno realizzati, ma non in questa fase. Ci saranno altre opportunità con un'azione di riorganizzazione e di revisione dei costi dell'azienda ospedaliere. Infatti, ha aggiunto il Presidente, con l'ottimizzazione si possono trovare spazi utili a generare risorse da reinvestire sul territorio con strutture, strumenti e personale. Entro il 28 febbraio, ha spiegato Saltamartini, le schede devono essere depositate, tutte le opere devono essere completate entro il 2026, ma con un'avvertenza, se una di queste a livello nazionale non dovesse essere realizzata, l'Europa potrebbe non erogare i fondi previsti con il PNRR, un peso che riguarderà gare, appalti e controllo dell'esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti, ma con orgoglio presentiamo il piano e partecipiamo in prima fila allo sviluppo del nostro Paese. Cosa sono le case di comunità? Sono il raggruppamento di tutti i servizi territoriali composti dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dalle adi, dagli infermieri di famiglia, dai sociologi, psicologi e così via. I criteri sono stati quelli di mettere accanto a ogni ospedale per acuto possibilmente un ospedale di comunità e delle case di comunità. Per esempio è stato individuato Galantara che serve, servente all'ospedale di Pesaro, è stato individuato l'intervento su Cagli e su Fossombrone che sono ospedali di comunità che sono serventi all'ospedale di Fano. Io naturalmente ritengo che questo non soddisfa completamente la domanda, per cui bisogna abbattere il numero chiuso a medicina. Nei prossimi anni dobbiamo formare i medici che si servono insieme agli infermieri, dobbiamo aumentare i fondi per le scuole di specializzazione, senza cui la domanda che proviene dai cittadini potrà essere difficilmente soddisfatta. Questo lo stiamo chiedendo da parecchi mesi, spero che qualcuno ci ascolti e spero anche che ci sia la consapevolezza che un conto essere visitati da un medico in persona è un conto che chiede il teleconsulto, il teleriferto o la teleconferenza. L'assessore Baldelli ha poi evidenziato il cambio di passo della giunta a Quaroli che punta alla tutela del diritto alla salute, ha detto, dal nord al sud della regione, dalla costa all'entroterra. Per il Santa Croce, Baldelli ha precisato che sorgerà una nuova palazzina in grado di gestire le emergenze, previsti 16 milioni di euro. Palazzine e ospedali alla terza del terzo millennio. Perché questo? Perché abbiamo trovato una situazione edilizia ospedaliera che gridava vendetta. Io ho su dire in alcune zone del nostro territorio di tipo medievale. In un anno abbiamo fatto un grandissimo passo in avanti, l'edilizia sanitaria e ospedaliera si è confrontata con i colleghi, con il collega della sanità e con la direzione dell'Asur e dell'azienda ospedaliere e oggi abbiamo presentato questo grande piano che cambia la sanità della nostra regione. A sottolineare il lavoro svolto è stato anche il vicepresidente Mirko Carloni che si è soffermato sull'ospice pediatrico previsto a Fano e per il quale è stata portata avanti una grande battaglia in questi anni, in particolare dall'associazione Maruzza, preseduta da Elmo Santini. Ecco, oggi noi stiamo preparando un piano che supera quel centralismo democratico, scusate Milano, che voleva chiudere tutto quanto per concentrare nelle grandi città. Noi invece stiamo facendo un piano che rimette dignità ai territori dando un presidio di salute in ogni paese, in ogni comunità. Poi per esempio, faccio l'esempio di Fano che è stato oggetto anche di diverse discussioni. In questo piano ci sono 16 milioni per l'ospedale, ma non di secondo interesse la rimessa in pristino dell'ospedaletto dei bambini per 5,5 milioni di euro, una cosa storica che io ho passato gli ultimi 12 anni in Consiglio regionale e sono argomenti di cui ci sono sfiumi di trascrizione del Consiglio. In questo piano ci sono i fatti concreti con la copertura finanziaria. Quindi invito soprattutto la stampa a dare il giusto merito per il lavoro fatto perché questa di oggi è una delibera davvero dai connotati storici. E a margine della conferenza stampa il governatore ha commentato i dati nelle Marche sulla pandemia che sono in miglioramento. Il governo ha dichiarato Acquaroli avrebbe dovuto togliere il sistema a colori restituendo serenità. Purtroppo, aggiunto invece in un post pubblicato su Facebook, sembra di vivere una situazione paradossale con l'utilizzo di un metodo che era stato ideato in una fase di assoluta emergenza ma che adesso sembra del tutto sproporzionato. Oggi noi nella nostra regione abbiamo un numero di terapia intensiva, una percentuale di terapia intensiva che è praticamente intorno a 16-17%. Una discesa nell'ultimo mese di 10 punti percentuali che determina gli effetti di una pandemia che in questo momento sta scemando. Io credo che in maniera intelligente il governo, come anticipato ormai tre settimane fa dai governatori in una richiesta, avrebbe dovuto prendere atto di questa fase e passare a una fase successiva dove si tolgono le classificazioni a colori e si restituisce un po' di serenità e una prospettiva di normalità al territorio che ha molto bisogno in termini di, soprattutto anche rilancio economico, e di socialità. Mi permetto di dire che ho notato e l'ho fatto notare a Speranza c'è una difformità nei dati che noi trasmettiamo e che sono pubblicati anche sull'Acenas e i dati invece che vengono trasmessi al Ministero della Salute. Sia il giorno che siamo diventati arancioni sia la settimana successiva c'è una discrepanza che abbiamo fatto notare che nel momento in cui andavamo arancioni non faceva la differenza perché eravamo comunque come terapie intensive sopra il 20%, ma eravamo dati al 26% piuttosto che al 23%. Nella settimana scorsa invece eravamo al 19,5% e venivamo dati oltre il 20%, quindi questo potrebbe essere importante per i 15 giorni di rientro che ancora vengono applicati al Ministero. Io mi auguro che ci sia un confronto, ma mi auguro anche che il governo prenda atto del momento della fase pandemica che viviamo e vada a superare questa classificazione che in questo momento è assolutamente antistorica. Ancora cronaca e parliamo di spaccio di droga perché la polizia di Pesaro in collaborazione con il commissariato di Urbino ha arrestato un 35enne residente nella periferia pesarese regolarmente occupato e incensurato. Gli investigatori lo hanno visto all'uscita da lavoro effettuare fugaci incontri con persone che lo attendevano nelle vicinanze. Così venerdì scorso è stato controllato. La prima sorpresa è arrivata durante la perquisizione dell'auto dove sono stati rinvenuti e sequestrati 50 grammi di cocaina. Poi nella sua abitazione sono stati trovati altri 170 grammi della stessa sostanza in parte suddivisa in dosi, poi cristalli di metanfetamina, hashish e marijuana. Il 35enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato nel carcere di Villa Fastigi. Questa mattina il GIP del Tribunale di Pesaro ha convalidato l'arresto e applicato i domiciliari. Ci spostiamo a Pesaro dove nei giorni scorsi Vittorio Sgarbi ha lanciato Umberto Carriera a futuro sindaco della città. Il senatore ha presentato anche il nuovo partito con cui insieme si presenteranno alle elezioni politiche del prossimo anno senza risparmiare critiche a chi aveva dato contro al ristoratore ribelle che aveva aperto uno dei suoi locali in pieno lockdown. Tutti i ristoratori di Pesaro che tenevano chiusi avevano torto, leccavano il culo al potere, devono vergognarsi di aver chiuso, dovevano essere tutti aperti perché non c'è niente di male a mangiare. E' arrivato nel centro storico di Pesaro venerdì scorso alle 21.30 l'onorevole Vittorio Sgarbi che ha incontrato Umberto Carriera e altri esponenti del movimento Io Apro per parlare del nuovo partito chiamato Io Apro a Rinascimento con il quale vogliono presentarsi alle elezioni politiche della primavera 2023. Inevitabile inizio intervista il commento sulla sentenza che ha annullato la multa alla chiusura della grande bellezza a Monbaroccio, uno dei ristoranti di carriera nel quale a gennaio 2021 l'imprenditore ribelle organizzò una cena sfidando il DPCM del governo Conte che imponeva la chiusura dei locali alle ore 18. Avevamo ragione Sul fatto che la chiusura era un errore grave di un governo criminale, di un prefetto poverino, non voglio giudicare, di un sindaco di Fano e di Pesaro che andrebbero fatti destituire. Io Apro perché è nobile, perché se tu vuoi fare delle regole, le fai, e dici c'è una fascia oraria da mezzogiorno alle 3 e una fascia oraria dalle 19, dalle 20 alle 23, fine. Non è che tu dici chiuda alle 6, perché chiuda alle 6 è un ordine di un gruppo di deficienti, di incapaci e di sindaci peggio di loro che oggi hanno torto. Vengano a mettersi in ginocchio, a partire da Matteo Ricci e a scusarsi. Il signor, mio amico Ricci, era sicuro che sono da parte della ragione. No, vorrei capire che ragione aveva. Era il legittimo chiudere, ha proseguito Sgarbi, che ha aggiunto, non so se avremo la forza di candidare Umberto Carriera come premier, però prenderemo molti voti. Quindi ha fatto bene Carriera, vero leader, futuro sindaco di Pesaro, a dire io tengo aperto, perché era una cosa civile, tutte queste misure erano sbagliate, ma lo erano non in quanto misure sanitarie, ma in quanto misure di autoritarismo. Non andare a sciare, ma che cazzo vuol dire andare a sciare? Non andare in bicicletta, ma che cazzo sei? Ora, quando arrivano poi i vaccini, quando arrivano le medicine, uno le prende, io le ho prese, non devo contestare, io vi le malattie e mi fido dei medici, però non mi fido dei governanti che fanno i medici e neanche dei medici che fanno i governanti. Allora, la Carriera è stata coraggiosa, è diventato un simbolo, io apro, è un bellissimo nome, perché io apro, non solo io apro i ristoranti, ma io apro la vita, apro la novità, apro al tentativo di risolvere alcuni problemi. Il tempo è galantuomo, ha commentato invece Carriera, il Tribunale ci ha dato ragione e intanto Sgarbi ha annunciato un'assemblea che faranno a Roma il prossimo 25 febbraio e poi a metà marzo l'incontro con gli altri leader. Perché Vittorio adesso c'è un buco nero tale, veramente che le persone non sanno, cioè vanno a votare, a cercare il meno peggio, invece noi vogliamo dare l'opzione, siamo persone che siamo partite dal basso, siamo imprenditori, la sera lavoriamo nelle nostre attività e non solo noi, tutti quelli che ci seguono sono persone che si fanno un mazzo. Il primo obiettivo è riportare la gente al voto, i giovani al voto, perché la gente non va più a votare, l'ultima amministrativa il 52% di italiani non ha votato. Riportiamo le persone al voto e le persone sapranno scegliere chi ha combattuto e chi ha resistito negli ultimi due anni. C'è uno scollamento totale tra la politica e il popolo e quindi noi stiamo facendo la collante proprio perché la gente non crede più in politica. Dopo aver parlato di Boris Johnson, punito ha detto Sgarbi solo perché ha partecipato a una festa ed è la sindaca di Madrid che ha vinto proprio le elezioni perché, contraria alle chiusure, ha ricordato quanto accadeva nella Repubblica di San Marino dove, a differenza dell'Italia, i ristoranti erano aperti. Lì, San Marino sono tutti pazzi, non mi pare che c'è stata una pesta, non è che sono morti tutti. Poi la cosa che osservo da ultimo, rispetto ai dati, ci sono stati molti morti, non abbiamo ancora capito di cosa sono morti, però ammettiamo che ci sono morti di Covid. Anche adesso, i morti che c'erano prima del vaccino ci sono anche col vaccino. Sono circa 300-400 morti al giorno. Allora è molto bizzarra questa cosa, c'è il compoto dei morti. Se fosse un vaccino che salva milioni di persone, dovrebbe salvare anche quelli che invece muoiono esattamente come morivano prima del vaccino. Per cui, io mi fido dei vaccini, in generale la cura probabilmente funziona. Però è anche vero che ho avuto un Covid senza vaccino e un Covid con vaccino. Quindi non è che posso dire che è capitato questo. Quindi probabilmente l'epidemia sarebbe andata lentamente scemando, come va, indipendentemente dai medicinali. Però uno che li vuole prendere, li prende. Uno che non li vuole prendere, non li prende. Non è che devi costringere a metterglielo come l'odio di ricino. Ti metto in bocca e se non lo prendi non puoi andare a lavorare, non puoi andare in un negozio, non puoi andare alla parrucchiera. Ma che mondo è? Per cui la lotta continua. Lotta continua. In un'azienda di Cagli la Regione ha presentato un nuovo bando dedicato agli imprenditori agricoli. A disposizione ci sono 30 milioni di euro che potranno essere utilizzati per investire nel rinnovamento delle strutture produttive. Si è svolto a Cagli lo scorso 10 febbraio il seminario di presentazione del bando relativo alla sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nell'azienda agricola è rivolta ad imprenditori singoli o associati. Infatti, grazie al PSR Marche, è possibile costruire o ristrutturare fabbricati, impianti e ricoveri, acquistare attrezzature e macchinari oppure realizzare opere di miglioramento fondiario. 30 milioni di euro, ha commentato il vicepresidente Mirko Carloni, che possono contribuire a cambiare il volto del sistema rurale della Regione. Un'impresa agricola più moderna affronta meglio la concorrenza dei mercati, può diventare più efficiente sul versante energetico, produrre in modo più sostenibile e garantire una maggiore sicurezza sul lavoro a chi quotidianamente è impegnato nella coltivazione e nell'allevamento. È una versione che noi vorremmo velocemente far entrare nella liquidità delle imprese senza troppa burocrazia e anche i pagamenti nel 2021 abbiamo dato un'accelerata che ha recuperato i tanti ritardi degli anni precedenti. E quindi se non si investe in queste attività che talvolta sono poco remunerative, pensiamo per esempio alla zootecnia e a quanta fatica costa fare l'allevatore perché è un'attività che non va in ferie nella vacca, nel vitello e quindi dobbiamo pensare che queste persone molto spesso fanno delle attività dove il guadagno è basso e dove la fatica è tanta. Quindi se vogliamo che ci sia continuità, se vogliamo che ci sia un ricambio generazionale dobbiamo davvero sostenerli finanziariamente e fare in modo che la politica regionale investa su imprenditori agricoli. Le domande possono essere presentate fino alle ore 13 del prossimo 19 maggio. C'è una forte aspettativa, ha detto il dirigente Lorenzo Bisogni. Erano cinque anni che non usciva un bando per investimenti in questi territori, ha detto. La regione infatti era intervenuta solo nelle aree sismiche vista la grande difficoltà. Quali sono i requisiti nel dettaglio per poter partecipare? Deve essere un'azienda professionale quindi diciamo che deve garantire il lavoro a una persona in termini di ore di lavoro insomma. E poi tutti gli agricoltori possono entrare, non ci sono limitazioni di sorta. Quello che conta poi saranno le priorità per la scelta dei progetti. Bisogna coinvolgere un tecnico che sappia ovviamente le regole, si legga con attenzione il bando. In passato è successo anche a volte che c'erano stati dei problemi, però questa volta devo dire che abbiamo apportato notevoli semplificazioni alle regole del bando. Quindi avremo dei computi metrici semplificati, non avremo più la necessità di portare i preventivi. Quindi chi farà domanda impiegherà sicuramente meno tempo e lavoro per arrivare a chiedere il contributo. Diversi sono stati gli imprenditori che hanno ricevuto aiuti grazie al PSR e che durante il seminario hanno portato la loro testimonianza come Augusto Cancellieri, titolare di un'azienda agricola zootecnica. Mi accontento perché la fortuna di avere quei soldi dà la possibilità agli agricoltori ad avere un'agricoltura forte perché se l'agricoltura è forte si ha una società forte perché l'agricoltura è la spina dorsale della società. Un'agricoltura forte, un'agricoltura innovativa. Noi abbiamo robot in stalla che gestiscono l'alimentazione degli animali. Abbiamo una paleolica per le energie rinnovabili. Noi abbiamo investito tantissimo e vi dico, io avevo 20 anni, ho preso 300 mila euro in banca e la banca me ne ha chiesti 480. Io a 20 anni avevo mezzo miliardo di debito sulle spalle senza un soldo in tasca. Se non avevo il PSR io non avrei avuto un futuro. L'azienda Profiglas, da sempre legata al territorio fanese, ha donato un ecografo alla struttura complessa di chirurgia generale. Lo strumento di ultima generazione verrà utilizzato nel presidio ospedaliero Santa Croce per lo studio dei pazienti con patologia vascolare. Quest'ultima è una delle cause più importanti di morte e di invalidità in conseguenza degli esiti dell'ictus cerebrale. L'ecografo servirà anche a preparare all'intervento chirurgico le pazienti con problemi di vene agli arti inferiori che affligge le donne di ogni età. L'alta specializzazione dell'azienda ospedaliera richiede un continuo aggiornamento della strumentazione per rimanere competitiva nell'ambito sanitario e per assolvere a suo ruolo di centro di riferimento per le patologie complesse per tutto il territorio del nord delle Marche. Il personale della chirurgia e la direzione ospedaliera rappresentata dalla dottoressa Maria Capalbo che ha partecipato all'inaugurazione hanno espresso profonda riconoscenza alla famiglia Pace per i loro sforzi al continuo miglioramento dell'ospedale cittadino. Apriamo anche questa sera l'album di Fano TV perché alla chiesa Gran Madre di Dio a San Lazzaro di Fano i coniugi Maurizio Campanelli e Marisa May hanno ripromesso fedeltà alla loro unione. Li vediamo in queste due foto scattate rispettivamente 50 anni fa al loro matrimonio e ieri in chiesa dopo la promessa. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi torniamo in diretta per una nuova puntata di Primo Cittadino come sapete l'ospite il sindaco di Fano Massimo Seri segnate i numeri di telefono di riferimento e poi appunto tra poco torniamo in diretta per parlare con il sindaco.